Anche Torre del Greco partecipa alla campagna nazionale della protezione civile Io non rischio. Paolo Belfiore, quali sono le iniziative in programma? L'associazione Torre Vesuvio Pro Natura partecipa alla campagna nazionale Io non rischio del Dipartimento Nazionale. Saremo a Torre del Greco il giorno 15 e il giorno 16 dalle 9 alle 14 con un gazebo informativo. Siamo riconoscibili dalle sciarpe gialle che abbiamo e da un gazebo di colore giallo. Daremo informazione sulle buone pratiche di protezione civile e parleremo di terremoto, maremoto e alluvione. Qual è la finalità di questa campagna? Informare i cittadini in caso di calamità naturale, come dicevo prima, terremoto, maremoto e alluvione. Come comportarsi, cosa fare, a chi chiamare. Naturalmente sono informazioni utili soprattutto nei nostri territori? Principalmente nei nostri territori per l'alluvione, terremoto. Non si parlerà del Vesuvio, ma comunque il Vesuvio è una zona a rischio, anche qua si fanno i terremoti. Ma noi parleremo prettamente dei terremoti nazionali, dell'alluvione, come bisogna comportarsi quando si sta nei pressi del mare, in pianura. Non dimentichiamo che abbiamo anche alcuni vulcani qua a mare che possono creare dei problemi di maremoto. Quali sono le buone pratiche? Quali sono le regole giuste di comportamento nel caso di queste calamità naturali? Le buone pratiche di terremoto, parliamo di terremoto, è stare lì fermi appena non muoversi. Poi al momento opportuno si calma il terremoto, bisogna spostarsi, non attraversare un ponte, non mettersi sotto ai fili di corrente. Portarsi il breve tempo possibile in uno spazio aperto, dove non c'è pericolo. In casa non avere sulle mensole un piatto, dei quadri anche non stanno bene vicino al muro. Quindi sono tante piccole cose che noi vi spiegheremo. L'alluvione, idem, la stessa cosa, non muoversi da casa, magari aspettare notizie dagli enti preposti, non recuperare la macchina, non portarsi in strada. Il maremoto, idem, appena si riconosce che c'è un'onda anomala, cercare di scappare il più breve possibile, portarsi all'interno del territorio, se non si riesce magari salire su un albero o un'abitazione un po' più in alto, insomma mettersi in sicurezza. Parleremo di questo nel nostro gazepa informativo. Siete invitati a partecipare a questo evento, è un evento molto informativo e molto importante.